Dal centro-destra il no compatto a un Conte Ter e a una riedizione della stessa maggioranza e la linea ribadita al capo dello Stato dalla coalizione Salita Unita ieri al Colle. Per Salvini un nuovo governo Conte sarebbe una presa in giro, il mandato esplorativo a Fico. Altri quattro giorni sprecati pur di non mollare le poltrone ci riprovano, afferma il leader della Lega. Se falliscono, il voto lo avvia maestra o un esecutivo di centro-destra. Un governo forte e coraggioso può nascere solo dalle urne, insiste Meloni, se qualcuno nel centro-destra farà altro sarà più difficile.